ciao ragazzi siamo arrivati al terzo appuntamento con i nostri video oggi vedremo un circuito visto che in molti me l'ho chiesto totalmente dedicato al catpel ok qui ho due catpel da 20 sono dimostrativi in genere gli avanzati possono fare questo lavoro anche con 24 28 kg mentre magari per i novizi uomini 16 kg invece per le donne si può iniziare dagli 8 andare a 12 e le più esperte anche a 16 20 e andiamo a vedere quali saranno gli esercizi allora questo è un circuito che potete fare benissimo lavorando o a tempo o a ripetizione io consiglio di fare ad esempio un minuto di lavoro 30 secondi di recupero tra esercizio terminato il circuito potete fare due minuti di recupero e ripetere almeno quattro volte diciamo che tra le quattro e le sei volte invece se volete lavorare a ripetizioni tra le 8 e le 12 ripetizioni totali quindi anche se fate il russian press alternato 12 ripetizioni totali per il resto è tutto ci vediamo nel prossimo video vieni qua vieni vieni qua vieni qua vieni qua Grazie.